sicuramente non è partita adesso però dobbiamo tirare fuori la mappa lord ce l'ho sul telegram web per il momento puntiamo su quello vecchio poi ci buttiamo su quello nuovo dimmi quando devo lanciarmi con la mappa aperta non vedo un cazzo e sto aprendo la mappa di là la trovo 5, 4, 3 2, 1 vai punta dritto per dritto io avevo la telecamera girata giusta ma il tg era girato dalla porta a porta si lo so la stessa cosa eh però sta mappa magari non è da aggiornare col fatto che hanno cambiato gli spawn delle cose c'è uno sotto di me che però è andato dall'altra parte eh appena la trovo aggiornata volentieri eh no perché c'è stato aggiornamento oggi che hanno modificato lo spawn di certe cose non vorrei che eh no non ve la farò vedere nel video c'è uno sotto di me c'è uno sotto di me c'è uno sotto di me che punta la macchina sto già andando in giro a volte ma lui no è andato lungo è andato lungo lui è andato lungo è andato lungo vuoi vedere se torna indietro chi è arrivato chi è arrivato io sono atterrato ma penso che sia tipo la no ho sentito join your channel quindi è una formica salvatica ah è una formica che però non riesco a sentire aspetta che silenzio silenzio che questo girato di spalle non mi vede se parlo non mi sento si ti sento io aspetta che questo lo ammazza pugni sii ti muovi? ho ucciso uno pugni sono completamente disarmato perché ho ucciso quello stronzapugni daire passate andiamo a andiamo prima ad andare qua vai oh fin là si chiude puttana ma sei tu che stai guidando? eh lo so ma guarda guarda si chiude la mappa inchia eeeh provo via dove siamo noi no eh sì se al cerchio va dove c'è meno gente possibile merda non è vero non è detto tentiamo qua e poi scappiamo via veloce hai fatto quindi tu sì quattro minuti ce la facciamo dobbiamo trovare assolutamente una tannica di benzina però eh sì perché sennò non arriviamo laggiù oh qui devo mettere a posto l'audio di Z per che non lo sento eh non fa io lo sento no è troppo basso per me 50 fps in movimento con la macchina può io non lo so quindi va bene no è migliorato è migliorato è migliorato si ma lo trovo anche graffi non lo so tipo le macchine le trovo più dettagliate è una mia impressione è una tua impressione non so la verniciatura mi sembra più forse perché di solito guido e non ci faccio caldo anche io mi sono indicato che c'era il boost buggy però consumiamo più più benzina buggy no niente buggy ciao buggy prendetevi la moto beh tutto l'è già provata fixata bene funziona bene funziona bene come si fonda la recensione come si fonda la recensione niente drift ma per favore vai no oh cristo oh cristo cosa oh cristo cosa doom 8x ovvio ovvio che il posto è migliore del solito non si può salire qua si 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 oddio sono fatta male all'animazione di queste scale quali scale? questa è della gru sto salendo sulla gru non so ah ci sono andato io una volta sulla gru e non è che ci fosse stato molto eh ma a me basta anche una pistolina non c'è niente c'ho lo zoom otto per e basta io ho appena trovato un qualcosa io ho trovato una sega di niente non ha detto sega non ha detto niente non ha detto niente io che trovi un'arma ti prego stavo cercando di vedere se c'era qualcosa andiamo un attimo qua nei cappannoni veloci poi andiamo via i cappannoni veloci quali? questi qua questi qua dove? quando? perché? questi qua cazzo dove? dove? sono qui ma mi vedi sulla mappa cristo eh bravo saltati le armi che sono qua fuori eh ne parliamo dopo eh ho trovato il vector che cazzo è il vector per me proprio? eh mitra mini mini veloce c'era il fucilazzo a pompa che era fuori eh non volevo dirtelo davvero? eh sì stavo pensando se era il caso di colpirti in testa mentre ti arrivavo da dietro no quello che fanno tutte le volte praticamente ma quello è venire da dietro diverso eh infatti eh ma la botta in testa arriva sempre ma padico eh infatti sta minchia ma mi gira la testa mi disse tipo tra i container ci sarà qualcosa eh c'era c'è poco e niente se salisse sta merda sto cercando di vedere se c'è qualcosa container aperto con dentro un paio di jeans ottimo utile eh io mi andrai via che mancano 40 secondi eh io sono qua dalla macchina a parte che ci mette ancora un po' però guido io o seguito? cioè ci sarebbe un buggy qua non volevo dirtelo eh buggy buggy ma volevo guidare io però il buggy guardate sulla torretta se c'era qualcosa ok oh tira di qua ah smetti? ahia ahia chiammi una direzione eh andiamo verso Gatga Gatto cazzo cazzo oh cristo ne stavo guardando la mappa non ho visto le tue cazzate per fortuna ho finito su due ruote e sono atterrato su quattro ruote non lo so bene quella moto? vogliamo provare la moto per il collezione del bug? no proviamo dopo un'altra partita altro regalo ok una pompa niente un altro albero ok stavo per dire l'albero sul gruppone ma mi sono fermato prima no era sulla gomma destra veramente anteriore destra eh quando ho visto che stavi guardando da altri quarti aspettate vi lancio un attimo il buggy grazie in avanti se no andiamo in giro weee porco il cazzo oh 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 no fermo fermo buggy oh soltanto tu sai cosa hai fatto? ci credi che non ho mosso il mouse vai avanti va vivi per miracolo devo chiamarla questa sì questa sì è uno no che palle le spuglie di merda le ho messe a posto eh siamo in arra rossa comunque dai gliene ma adesso taglio per i campi ecco vuoi morire sotto i bombardamenti a piedi vai io un po' da un fuori gacca va che è meglio tipo vai fuori dal cerchio rosso per dio vai qua via 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 ok sono un pilota l'altro comunque devi ammettere ma per favore prova beh guarda se c'è una un qualcosa da prendere qualcos'altro c'è qui no qua non c'è un cazzo io non sono tantissime equipato eh non c'è ma coltai qua prova ad andare nelle casette là davanti questa è qui davanti a noi ok intanto io preparo le armi bravo poi saremmo arrivati devo scendere c'è un macete che prenderò eh che cazzo lascio il livello 2 qua si bravo poi già c'è una sega qua dentro sega non c'è qualcosa qua dentro felice della sega c'è una padella no il macete grazie anch'io sicuro che non c'è niente cagate ok occhio se per caso senti mezzo mezzo passo un po' meglio un po' meglio un po' meglio poi ti do ancora ti do ancora una regolata da ts dopo va bene allora lo alzo il massimo ok c'è qualche cosa c'è un gas mask ok c'è un fucile a pompa la pompa ce l'ho devi lasciarmi le munizioni grazie ti do subito quelli vuoi? non posso metterla niente lo zoom 8x è un fucile migliore? no allora posso avere i 12 vabbè le ah io posso metterlo sulla balestra l'8x volendo eh so puntato e poi avrei bisogno dei calibro 45 e dei calibri non vedo il mirino aspetta sei dei calibro vabbè no vabbè no non me lo fa mettere neanche sulla balestra lo stronzo l'8x non puoi no vabbè dicevi cosa cosa ti servono i gauge i gauge i gauge sono in una ventina ah no aspetta ma servono anche a me i gauge fanculo eh il calibro 45 il calibro 45 sono della pistola aspetta stai picchiando la tastiera in una maniera devastante si ti posso dare i muro ci ho appena passato di fianco ah picco andiamo andiamo ma dai stavo scrivendo gioco di merda daiene il turbo funziona anche in retro lo sapevi di che? il turbo funziona anche in retro punta queste casette qua al velo punta sui campi ok vado dritto per dritto posso andare dritto per dritto ripeto che controllo si passi in mezzo a un'altura e poi in mezzo dei campi mi sembra altura altura vabbè altura ha messo male un'altura vista da la campi esatto palle di pieno casa pam secchi in faccia vaga non so cosa c'è quindi rallento un po' e' dritto per dritto vai posso passare la collina brutale ma la collina dovrebbe essere troppo un problema un po' più sinistra un po' più sinistra un po' più sinistra leggermente sinistra non destra per dio tutta vita gratis che perdiamo no il muro blu è qua davanti a noi oh entraci chica ciao eh no sei ancora vivo anch'io però il muro è qua dai uff siamo dentro già vado guarda queste casette qua un attimo anche se abbiamo poco tempo per l'altro abbiamo poca vita no abbiamo due minuti e mezzo se troviamo bende curiamoci ovvio qui non e' venuto nascondo decisamente direi proprio io io ho delle bende in mano per casa no ho trovato qualcosa proiettili sopra e una pistola ah ma qui è aperta la casa quindi qualcuno è passato e ignorato Z ti prego ti abbasso il volume aspetta mi sto sistemando un attimino eh ma stiamo registrando ti senti solo il bordello che fai qua sono passato cos'è questo? mollo il fucile a pompa ah prendi due mp? si eh mi servirà mi servirà mi servirà un'arma anche a me dobbiamo servirmi un 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 qualcosa di uh ciocca uh olografic cosa per la palestra fico ti sei impiantato li vedi la cazzo stavo raccogliendo davanti ai tuoi piedi io di mirino ancora niente eh manco fucile da cecchì no la pompa no fucile da pompa perchè c'è la caccia eh la resistenza in un minuto ok un minuto abbiamo quante le case ci hanno qua solo ste due sono ste due si e merda si io non ho trovato niente per curarmi ottimo manco io però la vera che non abbia no non cazzo lo saerò che sarà breve questa partita si molto breve anzi fanno roba andiamo veloci dove aspetta ho già capito devo fare devo fare io il ribaltone qua cazzo qua ci rischiamo tutto per tutto proprio ma stai guidando tu il pit ne ho ancora accelerato sei sicuro di quello che stai dicendo? assolutamente no fantastico tu pensa a mirare verso davanti eh senza mirino è una figata ti volevo bere occhio comogena mi stavi dando copertura mi stavi dando copertura poi ti sei tolto mi ha appena inchiappettato a sangue questo sai? ma perchè mi hanno fatto i cazzare? ma se tu stavi fermo io sopravvivevo ma anche no non 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 Grazie.